Queste persone vogliono soltanto lavorare e tra l'altro con interessi di mercato, con possibilità di mercato anche espansive, non solo di sopravvivenza dello stabilimento. Qui la questione è semplice, sono mancate le istituzioni, sono mancate a livello ministeriale quando sono arrivate delle proposte a quanto ci risulta e sono state dirottate verso altre regioni. Sono state dirottate verso altre regioni perché probabilmente anche la regione Puglia non ha saputo fare lobby in senso positivo per i nostri stabilimenti e per i nostri livelli occupazionali. Io adesso la disponibilità che ho dato a loro in questa battaglia che stanno conducendo è quella di scrivere al Presidente della Repubblica e allo stesso tempo verificare il Ministero dello Sviluppo Economico quale mandato abbia dato agli advisor per trovare investitori. Questo stabilimento deve ritornare a funzionare, non può essere smantellato e poi il giorno in cui andremo al governo stabilimenti del genere che si costruiscono con fondi oppure che giovano di fondi per il sud, quando le proprietà se ne vanno devono pagare l'exit tax, cioè devono pagare la tassa d'uscita che ammonta a quanto hanno preso di finanziamento pubblico perché questo vale sia per le regioni e vale anche a livello nazionale quando prendono i fondi dallo Stato e se ne vanno all'estero. Così il Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio ieri pomeriggio a Manfredonia dove ha incontrato una delegazione degli operai della San Galli Vetro ormai da un anno senza lavoro e senza stipendio e soprattutto con l'incertezza del proprio futuro. Il portavoce nazionale del Movimento 5 Stelle si è poi trasferito a Palazzo Celestini dove ad attenderlo c'erano centinaia di simpatizzanti giunti da tutta la provincia. Qui Di Maio ha ribadito il forte no alla realizzazione del deposito di GPL che Energas vorrebbe impiantare a due passi da Manfredonia. Che qui non si proteggono più i cittadini, si proteggono solo gli interessi privati. Voi mi dovete spiegare come si fa a dichiarare strategico un deposito del genere se questo governo non ha un piano energetico nazionale. Se non si fa prima un piano energetico nazionale come si fa a definire strategico un deposito del genere? Noi nelle prossime settimane presenteremo il nostro piano energetico nazionale per l'Italia che prevede nei prossimi decenni l'uscita e l'abbandono per sempre del carbone e del petrolio.